cooperativa agricola volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago ben trovati al meteo l'anticiclone africano comincia lentamente a indebolirsi giornata ancora stabile e in gran parte soleggiata vediamo insieme il dettaglio sul veneto il mese inizia con poche novità rispetto ai giorni scorsi nelle ore più fredde consuete riduzioni della visibilità cielo sereno o a tratti poco nuvoloso a seguire temperature in ulteriore lieve calo minime tra 7 e 12 gradi massime invece comprese tra i 18 e i 20 gradi all'incirca spostiamoci ora sul friuli venezia giulia anche in questo caso avremo possibili foschie al primo mattino localmente persistenti anche nel corso della giornata cielo in genere sereno altrove temperature minime sui 10 14 gradi massime intorno ai 18 21 gradi infine diamo uno sguardo al trentino alto adige dove dominerà il sole sarà anche in questo caso sereno o al massimo poco nuvoloso temperature minime intorno agli 8 gradi massime sui 21 all'incirca dal meteo di antenna 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci cooperativa agricola volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago pieve del grappa tre baseleghe e presso il contadino a dolo e massanzago pieve del grappa tre baseleghe e presso il contadino a dolo e massanzago pieve del collino livello